Nelle serate della weekend appena trascorso, in attuazione delle direttive emanate in sede di Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura, il questore di Catania ha disposto complessi e articolati controlli nelle vaste zone del centro storico della città, divise al fine di migliorare l'efficienza operativa in tre aree corrispondenti di massima a Via Santa Filomena e Via Gemellaro, Piazza Bellini e Piazza Scammacca, Piazza Federico di Svevia e Piazza Curro. In queste aree operative sono stati dislocati equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati da un funzionario di pubblica sicurezza che hanno vigilato sulle dinamiche collettive e operato diversi controlli nei confronti di soggetti in transito. Tali dispositivi, altresì, hanno costituito il supporto operativo per le squadre di Polizia Amministrativa della Questura, degli operatori della Nona, della Polizia Locale e per i servizi specialistici dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnati nei controlli agli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande. Inoltre, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza ai numerosi cittadini che hanno affollato la predetta area, con apposita ordinanza comunale è stata chiusa al traffico veicolare la Via San Giuliano, nel tratto compreso tra Via Manzoni e Via Ventimiglia, dove ha operato un congruo numero di pattuglie della Polizia Locale che hanno consentito il rispetto del previsto piano viario alternativo. Complessivamente sono state controllate 193 persone e 100 veicoli, sono state contestate 76 violazioni del codice della strada, 5 veicoli sono stati sequestrati, 8 sottoposti al fermo amministrativo e altri 10 veicoli fermati per mancanza della copertura assicurativa. Sono stati inoltre controllati 34 esercizi commerciali, di cui uno sanzionato per carenza igienico-sanitaria dei locali cucina, uno per ampliamento dell'attività non comunicata, tre poiché aperti oltre l'orario consentito, uno per occupazione di suolo pubblico, uno al cui proprietario è stata sospesa la licenza per carenza igienico-sanitaria, sanzionato per occupazione del suolo pubblico e per mancanza dell'HACCP. In seguito a quanto riscontrato, sono state irrogate sanzioni per circa 5.000 euro.